Con il mac10 si sono oltre i 5 metri è improbabile Di camminare piano e sentire attaccato al muro Eh si, come gli sparavo? Era lontanissima la porta se mi attaccava al muro Aspetti che esce l'ho Ari, che mica si guarda a destra Si, ma era 10 metri e non l'avrei preso Era troppo lontano, avevo troppa poca vita se stavo lontano, mi one-shotava comunque Guarda, è scurito io? Eh, io non sono lì No vabbè, te prego no Dove sono gli altri? Questo fumaggiano non vedo un'altra Ciao, sulla destra Oh, mi sono passato davanti e non mi ha visto Non mi ha visto, c'era il fumo, non ho visto nulla io Ovviamente Era in mezzo al fumaggiano, non potevo Ma non finisce bene La sinistra Ma dove c'era? Sopra Di sopra Di sopra Ok, uno si è in fondo al treno Uno è qua Non guarda da destra Si Ricarica, ricarica Fattro Bravo Arriva un altro, occhio Oppi Poker Ciao Bravo, bravo, bravo Tutti uccidi Ma ci no, ora che ci penso mi sa che li ho uccisi tutti io Cazzo, li ho uccisi tutti io Davvero? Si, perché l'M4 l'ho rubato al primo che ho ucciso Zucchero Ciao 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 Grazie.